Novità sul porto di Pescara, se ne è parlato ad Ancona in un incontro, Mascia, che lei ha avuto con il presidente dell'autorità portuale Centro Italia di Ancona, Rodolfo Giampieri. Novità positive? Un incontro molto profiguo perché non si è limitato solo ad un incontro di cortesia, il primo con il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale, ma era allargato anche ad altre realtà portuali del mare adriatico, non soltanto in relazione al territorio italiano, ma anche quello frontaliero, quello rivierasco riferito alla Croazia. Oltre questo è stata l'occasione anche per un approfondimento sul stato di avanzamento dei lavori per quanto riguarda il piano regolatore portuale di Pescara. In questa occasione abbiamo potuto approfondire col presidente Giampieri, che poi avrà un incontro significativo anche col sindaco di Pescara tra qualche giorno, esattamente il primo ottobre, per approfondire il fatto che fortunatamente dopo una prima realizzazione di un intervento essenziale, quello di apertura della diga foranea e quello poi della realizzazione della cosiddetta soffolta, oggi la Regione ha dato la valutazione di impatto ambientale favorevole rispetto agli ulteriori lavori che sono compresi nel primo lotto, quello di 15 milioni di euro finanziati dal masterplan. Quindi possiamo immaginare che da qui ad un tempo relativamente breve questi lavori possano proseguire attraverso un lavoro di realizzazione di un'ulteriore fase, cioè quella di allungamento dei moli guardiani, per poi creare le condizioni per il completamento di tutti i lavori che riguarderanno la parte nord del nostro porto. Poi ci sarà un'altra fase, quella 2, che invece riguarderà la zona sud del nostro porto e quindi la creazione poi alla fine di un sistema portuale completo che farà di Pescara, io spero in tempi brevi, uno dei porti più interessanti e più significativi della rivera adriatica. Grazie.